L'esposizione del comune di Trissino presso l'area sportiva del Palassinico e della Piscina Comunale per garantire la continuità di servizio molto ridotto rispetto ai mesi scorsi sarà uno spazio apposito già presente all'interno della struttura pubblica del Cazzavillan di Arzignano che diventerà il nuovo polo di riferimento per l'Ovest Vicentino. La decisione presa nei giorni scorsi dopo i contatti tra gli enti amministrativi locali la direzione dell'Ultzotto Berica è stata ufficializzata giovedì e resa nota alla stampa e all'utenza garantendo quindi la prosecuzione del servizio per questa settimana mentre da lunedì 7 giugno il servizio del punto tamponi sarà trasferito ad Arzignano dove fino ad oggi venivano accettati solo i pazienti interni per i test preoperatori. Il provvedimento spiega una nota e motivato dalla necessità di consentire la riapertura dell'impianto della piscina comunale di Trissino presso il quale è stato ospitato fino ad oggi il punto tamponi. Quello allestito dal lunedì per l'utenza esterna sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 11.45, dalle 14.15 alle 14.45. Si ricorda che l'accesso è su prenotazione tramite il portale Icuf previa impegnativa del medico di medicina generale.